Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città e buon martedì 10 luglio, quella di oggi a Torino è un'altra giornata di sole, un'altra giornata di caldo, abbiamo bel tempo oggi in città, almeno fino al pomeriggio, è previsto infatti che alcune nubi che si stanno formando sulle montagne intorno alla città, arrivino possibilmente anche in pianura nel corso del pomeriggio intorno alle 4-5 di oggi, questo potrebbe portare delle piogge e anche i classici temporali del presterale a cui siamo ormai abituati, oggi comunque le massime saranno intorno ai 33 gradi circa, per quanto riguarda la temperatura dell'Alia un po' di più sarà quella percepita per via di un'umidità media della giornata che è comunque al di sopra del 60%. Andiamo a vedere per quanto riguarda la viabilità gli autovelox, quelli che sono posizionati oggi in città, li troverete sui corsi Grosseto, Moncalieri, Orbassano, Tazzoli, Siracusa e Agnelli, in lungo Stura Lazio e in via Guidoreni. Di viabilità parliamo anche con la prima delle notizie che traiamo dalla prima pagina del sito della città, perché riguarda un cantiere che verrà inaugurato nella giornata di domani, si tratta dei lavori di ripristino di Corso Principe Odone nel tratto compreso tra Piazza Baldissera e Lungodora Napoli, verranno infatti spostate le recinzioni del cantiere, messe in sicurezza alcune di queste parti del cantiere, realizzate le fognature, insomma un lavoro che durerà intorno alle 4 settimane, le conseguenze saranno la deviazione dei mezzi pubblici su via Cigna e poi lo spegnimento temporaneo del semaforo tra Corso Principe Odone e Lungodora Napoli. Altra notizia che traiamo dall'elenco dei comunicati stampa pubblicati sull'home page del sito della città è quella relativa a una mozione che è stata approvata ieri con 31 voti favorevoli su 31 consiglieri votanti nel corso della seduta del Consiglio Comunale e riguarda un provvedimento di maggiore trasparenza per i parcheggi sotterranei in città, parcheggi la cui tariffa cambia durante il corso della giornata seconda delle fasce orarie, allora ieri è stato deciso di esporre in tutti i parcheggi della città l'ingresso dei parcheggi sotterranei le tariffe orarie e gli abbonamenti per consentire a chiunque voglia entrare di sapere in anticipo le tariffe. Ultima notizia, è stato siglato un accordo tra alcune istituzioni locali, tra le quali anche il Comune di Torino per chiedere a Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Trenitalia che gestisce la Rete Ferroviaria Italiana di abbinare ad alcune delle stazioni del territorio piemontese, quindi anche della cintura e di Torino stessa, di abbinare il nome della località o della città a quello delle attrazioni turistiche che è possibile visitare fermandosi in quella stazione. Alcune delle proposte che devono ancora essere accettate sono ad esempio Alpignano, Castello di Rivoli, Collegno e Certosa, Dora, Parco d'Ora qui a Torino, così come Lingotto, Fiere e Congressi, oppure Moncalieri, Castello di Moncalieri, Nichelino, Palazzina di Stupinigi e così via, sono molte le località che trovate all'interno del comunicato a stampa di cui vi parlavo. Bene, vediamo adesso alcuni appuntamenti culturali per questa serata, vi segnaliamo alle 21 a Colonia Sonora, al Parco Generale della Chiesa all'interno del Comune di Collegno, ci saranno i Gogol Bordello che saranno protagonisti di uno dei loro classici spettacoli e concerti con la loro World Music, l'ingresso è fissato a 25 Euro. Per il cinema due appuntamenti per la serata, alle 21.30 al massimo 3, una proiezione digitale HD di Cristiane F, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, film celeberrimo di Uli Edel del 1981 tratto dal libro Intervista di Cristiane Vera Felcherinov, vi ricordo che sono tutti attori giovanissimi, non professionisti, la proiezione comincia alle ore 21.30, i biglietti sono a 6,4 Euro. Chiudiamo con l'ultimo appuntamento di cinema, alle 22 verrà proiettato all'interno della rassegna Portofranco Summer Night del Cineteatro Baretti che si tiene in versione estiva nel cortile della casa del quartiere di San Salvario, verrà proiettato terraferma di Emanuele Crialese alle ore 22, film del 2011 con Donatella Finocchiaro e Beppe Fiorello. L'ingresso è gratuito e prevista una raccolta a cappello alla fine della proiezione. È tutto per quest'oggi, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale, a voi ovviamente per averci seguito, l'appuntamento è domani con la prossima edizione di Torino Web News. Web News.